Buonasera dal Sarocco di Capodimonte, terza giornata, il Mundialito World Cup, la Spagna vince 6-3 contro la Colombia, migliore in campo Bernardo Lanzaro, detto il nero, distruggiamo dall'altro Bernardo, complimenti la medaglia per te. Grazie. Senti, la tua prima partita è già inizia la prima partita in questa squadra, si deve attivare male, 3-0, una grande rimonta degli ultimi 10-15 minuti. Si, all'inizio del primo tempo dobbiamo trovare il giusto equilibrio, perché due cambi ogni 5 minuti la squadra non gira bene, poi abbiamo capito come dobbiamo fare ogni 10 minuti e abbiamo, si siamo fatti valere. Diciamo stasera è venuto anche a mancare un po' di Gianni, di stato il punto forte fino adesso, però avete fatto una grande partita di squadra, di funzionaggi. Giochiamo più di squadra che da individuali. Senti, ti rivedremo in futuro o è stata solo un'apparizione? No, 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 ci sarà. Va bene, vuoi fare una reddita? No, no. Bocca al lupo per me. Grazie a tutti. Grazie.